Question Time in Consiglio Comunale è movimentato quello di ieri all'ordine del giorno la risposta sull'interrogazione che riguardava la piscina comunale. A firmare la richiesta di spiegazioni la consigliera del Partito Democratico, Annalisa Petitto, pare che non ci siano tempi ancora certi per l'apertura della struttura chiusa da tre anni. L'interrogazione è datata agosto 2021 dopo aver ascoltato dunque la risposta dell'assessore, la consigliera del PD ha chiesto le dimissioni di Fabio Caracausi. Ho chiesto le immediate dimissioni dell'assessore allo sport Caracausi che dopo tre anni di amministrazione non è riuscito a dare oggi in Question Time nessuna data certa per la riapertura della piscina comunale è chiusa già da luglio del 2019. Ha dichiarato apertamente che mai nessun servizio di custodia o di vigilanza è stato predisposto da questa amministrazione sull'impianto della piscina comunale e difatti gli atti vandalici presso questa struttura si sono ripetuti nel tempo, rimanendo fino anche con le porte aperte. La piscina è chiusa da tre anni ed è assolutamente la grande vergogna di questa amministrazione e le dimissioni dovrebbero essere immediate e anche d'ufficio.